Domani alle 18 al parcheggio del Palazzo di Giustizia dell'Aquila ci sarà la manifestazione organizzata dal Comitato Familiari delle Vittime del Sisma, dopo le ultime sentenze shock che non solo non risarciscono i parenti, ma attribuiscono anche una condotta incauta alle vittime. Dietro c'è anche il progetto Storie di Giustizia che ha l'intenzione di raccontare l'Aquila anche dal punto di vista degli atti di giustizia, un documentario al quale si è iniziato a lavorare ormai un anno fa. La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo Margherita. La diffusione del contenuto delle sentenze ha provocato già da tempo molto malumore anche se i giudici hanno chiarito tramite l'associazione magistrati che da nessuna parte si legge condotta incauta e che sarebbe stata la stampa a ricostruire in modo fantasioso. Non possiamo rischiare che questa rimanga una questione solo dei familiari delle vittime, è importante che risponda l'intera comunità proprio perché quello che è successo poteva coinvolgere l'intera comunità anche a livello di vittime e poi in questo modo viene anche offesa una città che come cerca di ricostruirsi a livello materiale dovrebbe ricostruirsi anche facendo luce su quello che è successo prima del terremoto che poi abbiamo affrontato nei processi post terremoto, nei vari processi che ci sono stati. Quindi questo tentativo di gettare ombra, di ferire in questo modo anche non solo la memoria ma proprio il concetto di giustizia stesso va combattuto e va fatto tutti insieme. Domani la manifestazione ma intanto Simona Giannangeli, consigliere comunale dell'Aquila Coraggiosa, sta presentando un ordine del giorno sottoscritto da tutte le minoranze che impegni sindaco e giunta a pagare le spese legali ai familiari e la cosa probabilmente sarà calendarizzata nel prossimo consiglio comunale. la stessa cosa accadrà a livello regionale con il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci.